Cari amici, buonasera. Vedrete dal mio volto una certa stanchezza, ma comprenderete migliaia, decine di migliaia di messaggi, di email, di copie di querele. È stata l'esperienza professionale, morale, etica di avvocato e di cittadino più bella della nostra vita. A questa sera sono state depositate oltre 1.400 querele in ogni caserma dei carabinieri d'Italia. Già alcune procure hanno sul proprio tavolo le nostre querele. Poi vi racconterò lunedì, parleremo dell'iter. Ovviamente lo ricordo perché ovviamente ci sono piccoli speculatori, personaggi che stanno giocando al computer tutti quanti giorni e si divertono a provocare. Lo ricordo per l'ennesima volta, è inutile che provate a provocarci, è tutto completamente gratuito. Il mio impegno personale del mio studio, in questo periodo di crisi, in questo periodo di mancata legittimazione dei diritti costituzionali, stiamo lavorando gratis e lavoreremo su questa querera gratis per tutta la nostra vita. Per tutta la nostra vita. E faremo le opposizioni alle archiviazioni e andremo in Cassazione e combatteremo ogni attimo degli anni, dei mesi futuri perché una sola di queste querele dovrà almeno essere discussa in un'aula di tribunale. Ci saremo noi, ci saremo tutti i cittadini che hanno aderito a questa iniziativa democratica. democratica. Rendetevi conto, nessuno, nessuno in tutta la storia dell'Italia democratica è riuscito a far depositare 1500 querele. Non invenzioni, non butade, esposti, lettere, proteste. Querele. I cittadini hanno messo il loro documento, la loro carta d'identità, la loro firma. Ed è stato fantastico. È la democrazia diretta. Democrazia. Non incendiare Cassonetti, andare in un tribunale. Grande onore. Anzi, anzi, il Presidente della Repubblica a questi 1500 cittadini dovrebbe dare un encomio. Un encomio. Questi sono i valori. I valori della democrazia. In questi momenti si vede quando un popolo è veramente democratico. A dire, a dire con le leggi nei confronti di chi le leggi non le sta rispettando. Ed è un grandissimo onore. Allora, veniamo adunque, perché da lunedì ci saranno le nuove norme. Guardate, perdonatemi, sempre dal punto di vista giuridico. Vedete, quando indosso questa toga, la toga per il quale ho fatto un giuramento, un giuramento prima della professione, lo faccio perché sto parlando di questioni giuridiche, di quello per cui lavoriamo, abbiamo studiato e della difesa del cittadino. E lo posso fare con la toga. Amici che ogni tanto dissentite, perché sto parlando di questioni giuridiche. Nel momento in cui parlerò eventualmente di questioni sociali, sociopolitiche, la toga, come ben sapete, la tolgo, perché sono due momenti particolarmente diversi. Ma stasera parliamo di questioni giuridiche, perché c'è una nuova trappola. State molto attenti. C'è una nuova, grande trappola. Hanno fatto questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non ritorniamo sulla nostra richiesta di illegittimità di questo decreto. Non ci ritorniamo, però da lunedì ci saranno i vigili, i carabinieri, i guardi di finanza, ad aspettarci al barco su questa nuova legge. Quindi dobbiamo stare molto, ma molto, ma molto attenti, perché ricordatevi, lo possiamo dire, non facciamo assolutamente dire che ovviamente è un business per lo Stato, perché mentre per una multa di dietro di sosta lo Stato, il Comune o chi per lui incassa 60 euro, in questo caso lo Stato incassa 400 euro, 300 euro, 533 euro per una sanzione. Moltiplicate per migliaia, capite che diventa un business. Allora noi non dobbiamo essere ancora spremuti, ancora spremuti più di quello che siamo, con i verbali, perché i verbali, al di là della loro illegittimità costituzionale di cui abbiamo parlato, però nel frattempo ve li fanno e vi pignorano la macchina. Allora, diamo la prima notizia certa, ricordiamola, i 30 giorni iniziano a percorrersi dal 15 maggio, quindi qualsiasi multa verbale vi fanno ci sarà sempre tempo fino al 15 giugno per opporli. Andiamo a vedere, vi faccio solo la prima pagina, poi lunedì parleremo degli altri articoli, però intanto vi dovete abituare la prima pagina del decreto, dove ci sono le norme che interessano i cittadini comuni, cittadini di tutti i giorni, dove posso andare? Leggiamo e poi vi faccio vedere anche i trucchetti che sono in essere e noi ci dobbiamo tutelare, perché noi cittadini onesti che seguiamo la legge vorremmo delle leggi certe, vorremmo delle leggi non interpretabili, perché poi un vigile la interpreta in un modo, un finanziere la interpreta in un altro, ma purtroppo in questo modo fanno sì che ognuno, ognuno di quelli che poi ci mettono realmente la multa faccia quello che vuole. Allora lo leggiamo insieme, perché noi come sapete guardiamo sempre, esaminiamo i documenti insieme ai cittadini, eccoli, questo è l'articolo 1, è quello che ci interessa più di tutti, ecco ve lo faccio vedere, lo leggiamo insieme. Allora le norme più importanti sono, al numero A, ecco lo potete anche fotografare, ve lo metto a posto in modo che lo possiate fotografare così, così ne avete sempre una copia con voi, sono consentiti gli spostamenti motivati e completate esigenze lavorative e situazioni di necessità, questo è come al solito per motivi salute, si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti, guardate questo è il primo punto nuovo, si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento, eccetera, eccetera, è fatto di vieto di andare in un'altra regione e in ogni caso, queste sono le tre novità, e in ogni caso è consentita il rientro al proprio domicilio eletto, ecco queste sono le grandi novità, anzi finiamo e poi le discutiamo insieme, il punto F, non è consentito svolgere attività ludica, ecco questo articolo poi lo rivediamo insieme, non è consentito svolgere attività ludico-recreativa all'aperto, ludico-recreativa, non possiamo giocare, non possiamo andare a passeggio, leggete bene, ludico-recreativa, ecco, però è consentito svolgere individualmente, ovvero accompagnando i minori o le persone non completamente sufficienti, ecco qui leggiamo bene attività sportiva o attività motoria, e adesso vi commento questi articoli perché una virgola cambia tutto, quindi primo, sono ammessi gli spostamenti per incontrare i congiunti, quindi avete sentito i telegiornali che mentre la legge, questa legge, quella che i poliziotti faranno rispettare parla di congiunti, ieri sera, stamattina un po' dei ministri, ministri, i sottosegretari, hanno deciso così a voce, eccolo qui lo facciamo vedere perché perché facciamo sempre, ecco qui, hanno deciso a voce, questa è una legge scritta pubblicata sulla gazzetta ufficiale, a voce, ecco qui cosa dicono, il il vice ministro Sileri, l'amicizia è un affetto stabile e quindi si potrà si potrà far visita ad un amico, se è un amico vero, ecco, non faccio ulteriori considerazioni sulla giuridicità di questa asserzione perché mi vergogno anche di un'asserzione del genere perché lo fa un vice ministro della Repubblica Italiana che ha giurato come ho giurato io quando sono diventato avvocato, però cosa succederà? Cosa succederà? Nel momento in cui voi scrivete vado a trovare un amico, il poliziotto si metterà a ridere probabilmente, può darsi di no, ma potrebbe mettersi a ridere e dirà vi metto la multa, voi dovete fare ricorso, prefetto, giudice. Allora, dato che la legge, la legge, la norma, ecco, sulla legge lasciamo vedere, la norma prevede, ricordiamo la frase, spostamenti per incontrare congiunti, dato che il garante della privacy ha già detto ufficialmente che non dovrà essere menzionato il nome del congiunto che si va a trovare, per evitare qualsiasi errore sul nostro modulo scriveremo sto andando a trovare un congiunto finito, il nome è vietato metterlo e non c'è bisogno di mettere null'altro, quindi se è un nostro caro amico, noi ai sensi di legge dobbiamo scrivere congiunto, non facciamo errori e soprattutto non cadiamo nei tranelli di qualche pubblico ufficiale che essendo pubblico ufficiale non dovrebbero farli e speriamo non facciano nessun tranello, che ci chiederanno ma chi è questo amico, chi è questo congiunto un amico? Non si può dire, ho scritto congiunto e il garante della privacy mi garantisce che non debba dire null'altro, essenziale, poi lunedì ve lo spiegherò ancora meglio con delle ipotesi, ma vi sto dando le indicazioni essenziali per difenderci da eventuali soprusi, non ce ne saranno da eventuali soprusi. Nel momento in cui, a parte ricordiamoci che finalmente chi, soprattutto gli studenti fuori sede, sono stati bloccati in un'altra regione dove non hanno la residenza, da lunedì possono finalmente ritornare alla loro residenza, finalmente dice la norma è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per cui la propria famiglia è nelle marche, io sono rimasto all'università di Torino bloccato, potrò finalmente rientrare in famiglia, ai sensi dell'articolo 1,a, quindi scriverete sullo stato di necessità articolo 1,a, sto rientrando al mio domicilio o residenza fuori regione, è l'unico, è l'unica possibilità di farlo fuori regione. Infine, è questa la cosa ancora più, vedete, guardate con quale caziosità, qualche persona proprio con un cervello particolare è scritto questa norma, perché? Perché io posso uscire, però, ecco, rivediamolo insieme, eccolo qua, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa, anche perché poi al cittadino che magari non sa cosa significa ludica, perché non siamo tutti laureati, dobbiamo andare su internet a vedere un vocabolario, ludica o ricreativa? Ludica è il gioco, è la spensieratezza, quindi non possiamo uscire per fare, per passeggiare, non possiamo andare in giro a guardare il cielo, a guardare il cielo, gli uccelli che cantano, è vietato, ma se noi diciamo che stiamo facendo attività motoria, perché poi mi dovete spiegare se una passeggiata non è attività motoria, però vogliono in questo modo, questo per farvi comprendere come si tenta anche con la norma più semplice di confondere i cittadini, non di aiutarli, cioè, vedete, vedete, noi vorremmo che il nostro Stato ci aiuti a vivere, a sopravvivere in questo dramma, invece lo Stato con queste norme ci sta dando un ulteriore aggravio, un ulteriore anche psicologico, se non una vera e propria persecuzione sembrerebbe che sia una persecuzione, ma cosa significa che non posso svolgere attività ludica, ma solo attività motoria, ma se qualcuno di voi, anche erudito, forse più erudito di me probabilmente, riesce a spiegarmi quale follia ci sia in una norma del genere, vi prego di erudirmi in tal senso, però, però, ricordatevi, quando scendete sotto casa, anche se state passeggiando perché siete anziani e non potete correre, ovviamente, o perché non vi va di correre, basta che scriviate sul vostro modulo che vi portate in tasca, ricordatevi che il modulo, l'autocertificazione è la nostra salvezza, che ne possiamo pensare, è vero, è logico, è legittimo, è incostituzionale, ma è il modulo veritiero fino a querela di falso, fino a querela di falso, io scrivo, scrivo, sto facendo attività motoria, non devo dire null'altro, lo prevede la legge, qui non devo spiegare niente, do, consegno il foglietto al poliziotto che è venuto fino sotto casa mia per dirmi che sto facendo, mentre sarebbe stato anche più opportuno che andasse a restare un po' di spacciatore di droga, ma va bene anche questo, gli do il foglietto con scritto attività motoria e non devo dire null'altro, quindi non passeggiata ma attività motoria, è un'addizione prevista dal nostro vocabolario, la vogliono con questa nuova norma e noi assecondiamo, vi voglio far vedere, ecco guardate, articolo 1, guardate, questo per concludere, ma per concludere sempre in punta di giustizia, in punto di legge, guardate l'articolo come, guardate, ecco qui, articolo 1, eccolo qui, di, è vietata ogni forma di assembramento, è chiaro questo? Ecco, è vietata ogni forma di assembramento, ecco qui, chi l'ha firmata? Chi l'ha firmato? Il Presidente del Consiglio dei Ministri, è vietata ogni forma di assembramento, ecco qui, chi è questo qui in mezzo a tutto questo branco di persone sotto il ponte di Genova? Lo riconoscete? Se lo riconoscete ditemelo, guardate gli assembramenti, eccoli qui, guardate gli assembramenti, ecco, allora questo cosa significa? Significa che c'è una disparità di trattamento in diritto, la disparità di trattamento è vietata dalla legge, un cittadino un cittadino è trattato come gli altri cittadini, quindi se io non posso fare assembramenti non li può fare nessun altro cittadino, non c'è qualcuno che è al di sopra della legge. Queste foto dimostrano che qualcuno, purtroppo, è al di là della legge, ma nonostante questo noi continuiamo la nostra battaglia giuridica e giudiziaria. Siamo a disposizione di tutti i cittadini italiani, sempre gratuitamente, finché durerà questa crisi. E ricordatevi che non ci abbatterete, perché le nostre idee continueranno a vincere, perché è la giustizia che vincerà. Ricordatevi che potete sempre iscrivervi alla nostra newsletter. Ecco qui, ve lo ricordo, in questo modo, ci prendiamo tre giorni di meritate ferie, rilassiamo le nostre menti, ci vediamo lunedì con tutti gli aggiornamenti normativi, perché ricordatevi che domani, sabato, probabilmente i ministeri emetteranno una serie di circolari, ordinanze che nessuno conoscerà mai, ma noi le conosceremo e ve le diremo, perché così impareremo attraverso queste circolari a difenderci da qualsiasi sopruso. Gli italiani non vogliono essere ancora oggetto di soprusi e quindi stanno insieme, come una grande famiglia, imparando le norme, le leggi e anche come ricorrere contro le leggi o le norme ingiuste. Un abbraccio caro, buone feste a tutti, ci vediamo lunedì per qualsiasi cosa sapete come potete contattarmi.